ciao a tutti allora sta arrivando il caldo infatti c'ho le maniche corte e bisogna fa il lievito più spesso perché fa prima di venire su e allora mi sono ritrovato che c'ho 150 110 grammi di lievito in più che ho panificato l'altro ieri quindi questo qui lo userò per fare i cracker e dopo mentre li farò farò senza parlarvi saluto solo adesso mentre farò scriverò gli ingredienti ciao 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 In questi qui ci abbiamo messo sopra un po' di olio, un po' di sale e buccherellati con la forcina. Boh, non lo so, non mi ricordo più. Ah, vi volevo dire che ci ho messo il peperoncino e l'erba cipollina, mezzo cucchiaino, mezzo cucchiaino, ma non si serve. Quindi la prossima ce ne metterò di più. Com'è? Sono buonissimi. Molto buoni. Buonissimi. Avete visto nel video come non bisogna fare, come non bisogna usare la macchinetta. Se non intervenivo io. Amici telespettatori. Non so proprio che fare. Se siete arrivati fin qui, scrivete. Crecche. Creature. No, no, crecche. Crecche. Ciao. Sono buonissimi. Zola, come sono? Si sente il peperoncino? Poco, poco. No, un pochino se doveva sentire. Ciao. 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 Grazie a tutti.